Smascherati dai baschi verdi del comando provinciale della guardia di finanza di Chieti Furbetti del bollo auto. Nell'operazione bollabile le persone coinvolte fruivano infatti dell'esenzione per il pagamento del bollo auto previsto dalla legge 104 del 92 ma il disabile a cui era intestato il mezzo era deceduto da anni. Nell'operazione della finanza teatina sono stati segnalati 52 soggetti ed accertate violazioni per oltre 170 mila euro. Abbiamo svolto un'indagine a tappeto riguardante tutta la provincia di Chieti che si è focalizzata sulle persone che legittimamente risultavano affette da patologie gravi di invalidanti o da disabilità motoria e come tali quindi legittimate ad essere esenti dal pagamento del bollo auto così come previsto dalla legge. Ci siamo accorti che 700 di queste persone risultavano decedute. Per 228 posizioni di queste 700 abbiamo visto che era stata omessa la prescritta comunicazione di variazione. Abbiamo quindi avviato immediatamente controlli sui soggetti che risultavano avere intestato macchine ancora in circolazione quindi anche con contratti assicurativi attualmente validi e vigenti. Erano macchine intestate a persone che nel frattempo erano decedute e che quindi i legittimi usuari non avessero più il diritto a beneficiare di questa estensione del bollo auto. Abbiamo contestato a sanzioni per 170 mila euro abbiamo recuperato circa 150 mila euro di omesso pagamento del tributo che va alla regione Abruzzo e nei casi in cui abbiamo ravvisato delle condotte particolarmente perniciose abbiamo anche operato una segnalazione nei confronti della competente autorità giudiziaria affinché verifichi la sussistenza dei dei riati di cui alla 4.94 del codice penale sostituzione di persona o al 640 del codice penale quindi truffa.